buongiorno, il programma di oggi giriamo un attimo qua per il centro, ora fra tipo due ore esce il primo video quindi è tutto un casino qui per il fuso cioè alle 8 di mattina esce il video che per me esce, che per voi in Italia esce alle 14 ed è un vero bordello e stanotte ha nevicato il letto come ho detto nel video ieri sera è davvero 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 molto comodo e nulla, buongiorno, l'alfi del giorno è questo pantalone con questa maglia e poi ci abbinerò queste quindi nulla, buongiorno piove abbiamo gli ombrelli, ora direzione MoMA sta cominciando a tirare alcun bel venticello stiamo dirigendo presso il MoMA, c'è un vento cane e no, mi sembra davvero in ogni punto la persona che è alzata dal termine ha messo una parte bevista di Avengers, un sacco di altra bevelle però ci si adatta, domani c'è il sole patriottici per caso? Harry Potter fa una pippa questa è la San Patrick Cathedral, poderosa, molto poderosa, poderosa, poderosa e vedi? ci sono anche i famosi taxi tesla blu obiettivo raggiunto pausa caffettino, caricatino ai telefoni e poi si guarda un po' tutto abbiamo due ore buone finalmente cibo potevo prendere? no, lo lascio pure buono anche questo basta, ciao buono, molto buono e ora ho altri periodi di giri Rockpeller, due cose perché il tempo non è dei migliori e domani fortunatamente ci dovrebbe essere il sole speriamo siamo da Fajmarz e ci sono un sacco di facce di bambini a censurare quindi come se la sole era le più interessanti Yoda, 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 Yoda scusa ma lui? sono meglio io dai ok, penso che questo sia tipo un sogno per tutti i bambini del mondo allora l'obiettivo è andare verso Fajmarz e l'altra stessa ah, io ce l'ho ecco, questo è uno di quei luoghi dei clima che poi mi fa un po' impazzire wow ok cioè la cosa sta degenerando sembra di essere in infili wow wow, davvero wow il Mc Pro è in mezzo a una stessa bello ma se non ci... venezia pazzesco pazzesco se ne avevo ancora letto il gesto block la parola poderosa era questo il problema è un po' a chiamare si non è chiamare bene pizzermerda pizzermerda buono, buono, molto buono forza e l'arvoli forza e l'arvoli